Al Miramare l'incontro di calcio tra Manfredonia e Nardò termina sull'1-1, un pareggio e un punto a testa che condanne Sipuntini alla retrocessione matematica nel campionato di eccellenza, mentre i Granata non hanno più nulla da chiedere alla classifica. Nel primo tempo il Nardò è più manovriero del bianco celesti e si rende pericoloso con gli inserimenti di Caporale e Rosato, da segnalare un grande intervento del portiere ospite Mirarco che sventa sulla traversa una punizione di Laporta. A inizio del secondo tempo il Nardò passa in vantaggio, a Godirin si conferma implacabile e al cinquantesimo con un diagonale fulmina grasso e porta in vantaggio la propria squadra. Per l'attaccante nigeriano è la quindicesima marcatura stagionale. Ma i padroni di casa non ci stanno e replicano al sessantasettesimo con il giovane Rinaldi che approfitta di una disattenzione della difesa ospite, entra in aria, si libra del suo marcatore e batte Mirarco. Settantesimo minuto, il palo salva la porta bianco celeste difesa da Grasso, infatti insidiosa è stata la punizione di Prinari che si stampa sul palo alla destra del portiere bianco celeste. Al settantacinquesimo ancora un ottimo intervento di Grasso che salva sua Godirin e sventa la pericolosa entrata in aria dell'attaccante ospite. C'è anche gloria nella parte finale per l'estremo difensore Granata Mirarco che frena le ultime velleità bianco celesti prima del fischio finale. Con il pareggio di domenica il Manfredonia in classifica si porta a 17 punti e dopo cinque anni retrocede nel campionato di eccellenza con tre turni di anticipo.